Nonostante gli effetti negativi della pandemia si siano fatti sentire, per Fano dal punto di vista turistico, nel 2021 c'è stato un recupero. Nel periodo da gennaio a settembre si è registrato un incremento del 18% degli arrivi e del 26% delle presenze rispetto all'anno scorso tra italiani e stranieri. Una lenta risalita nonostante i dati restino comunque più bassi rispetto a quelli registrati nel 2019, ultima stagione prima dell'arrivo del coronavirus. A rendere noti i dati su arrivi e presenze nell'estate 2021 è stato l'assessore al turismo Etienne Lucarelli al convegno Focus Turismo organizzato venerdì al Teatro della Fortuna, a cui hanno partecipato anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ed il sottosegretario alle politiche del lavoro, Rossella Cotto. Se nel mese di giugno i dati sono tutti al negativo, a luglio invece si è registrato un più 20% di arrivi italiani, un dato che testimonia che ci sono stati tanti turisti in città ma che si sono fermati per poco tempo. Infatti il dato delle presenze nel mese di luglio è meno 6%, mentre a settembre si è alzato notevolmente raggiungendo il più 24%, mese in cui anche gli arrivi hanno registrato un più 14%. Il calo più sensibile infine lo ha avuto il turismo straniero, che va da almeno 59% degli arrivi di giugno almeno 1% delle presenze a settembre. L'anno scorso abbiamo gettato le basi con il piano strategico per il turismo, dopo gli stati generali, con momenti di confronto importanti. Adesso ogni anno bisogna che ci ritroviamo per capire cosa abbiamo fatto insieme e cosa ancora dobbiamo fare, in modo che l'amministrazione insieme a quello che hanno voluto con gli operatori detti le strategie e sia gli investimenti fatti dall'amministrazione sia gli investimenti fatti dai privati insomma vertano su un unico concetto, su un'unica immagine di città. Il concetto è che la Regione Marche sta spingendo alla promozione della città ma Frano dovrà brillare per le sue grandi caratteristiche che sono quella della città dei bambini, che sono quella della città di Vitruvio, della città marinara, della città del carnevale, sono quella del balneare che rafforzeremo con il Waterfront e con gli altri tanti investimenti. C'è una strategia che c'è stato un cambio di passo e stanno arrivando i risultati perché quando i dati sono oggettivi non si discutono, sono la vera conferma e quello che poi tutti noi cerchiamo. C'è stato un lavoro di squadra dove pubblico e privato hanno camminato insieme, hanno condiviso la strategia e quando si condividono le cose i risultati arrivano. È stata un'occasione anche per dire grazie a tutti coloro nelle varie forme, dalle associazioni, dal mondo della cultura, dello sport, dagli operatori turistici, che hanno tutti fatto qualcosa per superare questo momento difficile ma che hanno portato delle innovazioni importanti, i risultati sono visti. Il 2021 è un anno che è andato molto bene per Fano e non è scontato, ha affermato il consulente del comune Josef Iarche. Il 2022 non sarà facile, ha continuato, pertanto dobbiamo lavorare per far sì che Fano cresca e si sviluppi turisticamente. Il turista di oggi non è più quello del 2018-2019, è cambiato, tutti abbiamo cambiato. In conseguenza la proposta turistica di Fano deve in qualche maniera adeguarsi e soprattutto deve costruire proposte turistiche che permettano in qualche maniera far sì che il turismo non sia soltanto una questione stagionale di ferragosto sino che si possa lavorare con il turismo, con diversi turismi, diciamo almeno 5-6 mesi nell'arco dell'anno. Questo è l'obiettivo fondamentale. C'è un elemento molto importante che il turista non pensa come noi, il turista non compra il territorio, il turista non si innamora del suo territorio, il turista vuole l'esperienza che fa nel territorio e la chiave è quella di trasformare, di organizzare il territorio in proposta turistica.